Ed ecco Guido Bertolaso, classe 1950. Lui di Fasi ne ha due. La 1, Bertolaso, eroe dei due mondi. Capo della protezione civile, voluto da Romano Prodi prima e da Silvio Berlusconi poi. Anni di gloriosi successi e commissario straordinario per la prevenzione della SARS, per l'emergenza rifiuti in Campania, per il giubileo del 2000, per i vulcani alle eolie e l'area archeologica romana. Dopo 58 giorni nel capoluogo campano, grazie a lui, dichiara Silvio Berlusconi, è finita l'emergenza rifiuti. Napoli torna a una città occidentale. Poi è commissario straordinario per il terremoto in Abruzzo. Di lui sempre Berlusconi disse, dopo quello che ha fatto, il minimo che possiamo fare è nominarlo ministro. In un sondaggio del 2009, più popolare addirittura del Papa. Ma nel 2010 molla e va in pensione. Cosa è successo? È iniziato il Bertolaso 2. La caduta. A inizio anno il primo avviso di garanzia per gli appalti del G8 alla Maddalena. Secondo l'accusa, sarebbe stato coinvolto in un meccanismo di scambi di favori di varia natura, anche sessuale, in cambio di appalti. Tra qualche mese arriverà la sentenza di primo grado. Avrebbe avuto contatti dubbi con imprenditori come Diego Anemone, che secondo l'accusa gli avrebbe consegnato una mazzetta da 50.000 euro, pare collegati ad ambienti ecclesiastici. Anemone, dietro al quale ci sarebbe una misteriosa casa in affitto in via Giulia, legata a propaganda fide. Anemone, proprietario fra l'altro del Salaria Sport Village, frequentato da Bertolaso, e che avrebbe ricevuto importanti appalti dalla protezione civile. E poi il caso terremoto dell'Aquila, che è scritto nel registro degli indagati per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Secondo l'accusa, avrebbe sottovalutato il pericolo del terremoto, che causò la morte di 309 persone. Il prossimo mese inizieranno le udienze per il primo grado, ma il reato dovrebbe presto cadere in prescrizione. Ed eccoci alla fase 3, candidato a sindaco per il centrodestra, anche se dichiara di aver votato per Rutelli. Dopo la scesa e la caduta, qual è la fase 3? La risalita o la ricaduta?